E' sinceramente un'occasione di grande gioia e di grande emozione per me ritornare qui nella sala del maggior consiglio davanti a voi in questa serie di incontri, i capolavori raccontati. Il dipinto di questa sera è un dipinto spettacolare, è un'opera monumentale, alta e larga poco più di due metri, di forma sostanzialmente quadrata, quindi raffigura due giovani uomini molto eleganti, molto compiti, sostanzialmente quasi a grandezza naturale, poco meno che a grandezza naturale. In un contesto straordinariamente ricco di oggetti, di dettagli, di riferimenti e in un certo senso anche di possibili letture simboliche. Questo è un dipinto che è conservato nella National Gallery di Londra, ma è un eccezionale dipinto di sapore, di respiro europeo, perché questo è un dipinto che è conservato a Londra, è stato dipinto a Londra, ma per un committente francese e da un pittore tedesco. Quindi è una serie di concatenazioni sovranazionali che proprio oggi, in questo momento, in questi frangenti in cui si parla di Brexit, di sovranismi, di questioni di crisi dell'identità europea, ecco, io credo che un dipinto come questo, ripeto, dipinto a Londra per un committente francese da un pittore tedesco, sia davvero un esempio di come l'arte, la cultura, la storia della, mettiamoci pure questa definizione che stiamo utilizzando per questo ciclo della storia del virtuosismo nell'arte, non abbia davvero confini. Il dipinto non pone alcun problema dal punto di vista dell'attribuzione e della datazione, è firmato in latino Johannes Holbein Faccebat 1533, quindi è un dipinto di Hans Holbein, soprannominato Il Giovane, per distinguere dal padre anche egli pittore e omonimo, è un dipinto datato 1533, nessun problema quindi dal punto di vista della datazione e dell'attribuzione, ma questo è un dipinto che ha avuto bisogno di essere riletto e riscoperto, perché quando entrò nel mercato antiquario, era stato dipinto, come vi dicevo, per un committente francese, per due secoli abbondanti è rimasto in Francia, anzi, nelle guide della Francia veniva definito, nelle guide del Seicento, il più bel dipinto esistente in Francia. Pensate. Quando nel corso del XVIII secolo viene messo in vendita sul mercato antiquario, si era persa la memoria di chi fossero questi due personaggi, per cui c'è stata tutta una serie di congetture, di ipotesi, di identificazioni che sono state poi risolte molto brillantemente da uno studio, datato proprio all'anno 1900, che ha inequivocabilmente riconosciuto i due personaggi, e poi vi racconterò di chi si tratta. Qui vi mostro il dipinto nella sala della National Gallery di Londra, così avete un'idea delle sue dimensioni, della sua monumentalità, e anche del fatto che a Londra è presentato con una sontuosità, in uno splendido isolamento, proprio per sottolineare l'importanza, la centralità, la particolarità di questo dipinto. Questi signori, vedete, sono nei classici atteggiamenti da museo. Uno si è avvicinato al dipinto per leggere il cartellino esplicativo, dopodiché si farà venire un bel torcicollo, perché non penso che farà i doverosi passi indietro per vedere questo quadro, ma si fermerà lì, alzerà il collo e si prenderà un bel malanno alla cervicale. Invece gli altri due signori sono seduti sulla panca, la panca da galleria collocata al centro della sala, e sono forse un po' troppo lontani da questo dipinto. Se voi aveste visto il sottoscritto in questa sala, vi garantisco, io questo quadro me lo sono visto sdraiato per terra, perché questo dipinto ha una peculiarità, ha una particolarità, che suggerisce o addirittura impone un punto di vista del tutto particolare. Vi giuro che mi sono davvero sdraiato per terra in questa sala della National Gallery. L'artista di cui parliamo, Hans Holbein, il giovane, di cui questo è l'autoritratto conservato nella Galleria degli Autoritratti degli Uffizi, è un pittore che nasce in Germania, nasce nella nobile città di Augusta, Augsburg, è figlio di un pittore, Hans Holbein il vecchio, fratello di un pittore, Ambrosius Holbein, insomma è il tipico esempio di artista che si forma pazientemente all'interno della bottega di famiglia. Ma la particolarità di Holbein è quella di essere un personaggio piuttosto irrequieto. Non era un artista stabile e disposto a rimanere nella sua città come altri pittori della sua epoca. Pensate ad Albrecht Dürer, che è un grande viaggiatore, ma sostanzialmente ha il suo baricentro a Norimberga. E' proprio un pittore di Norimberga. Invece, addirittura qui Holbein nel suo autoritratto scrive Johannes Holpenius Basileensis di Basilea, ma lui non era di Basilea, lui era di Augsburg, nasce, si forma ad Augsburg, ma a un certo punto, ancora giovane, decide di trasferirsi, di lasciare Augsburg e di spostarsi a Basilea. Non so se abbia fatto bene a lasciare Augsburg, credo che abbia fatto malissimo, perché di lì a poco Augsburg, grazie alle dinastie dei banchieri, in particolare ai banchieri Fugger e ai Welser, diventerà una città straordinariamente ricca e molto importante per la geografia culturale della Germania meridionale. Ma Holbein se n'era già andato. Se ne va a Basilea e a Basilea avvia ancora molto giovane la sua produzione, insieme al fratello Ambrosius, produzione che nei primi anni della sua carriera è mista, nel senso che Holbein, come è naturale, fa un po' di tutto, dipinge pale d'altare, dipinge politici, dipinge piccoli quadri da collezionismo, ma ben presto si segnala come un dotato ritrattista. Il fatto di essersi spostato da Augsburg a Basilea gli serve quasi come trampolino per scendere, forse nemmeno una volta sola, più probabilmente due volte, in Italia. E Holbein, che pure è un artista rigorosamente e decisamente e inconfondibilmente tedesco, però è un pittore che ha apparentemente una buona conoscenza sull'arte lombarda del suo tempo. conosce presumibilmente, anzi, senz'altro, le opere di Leonardo, addirittura una sua ultima cena è proprio ispirata al Cenacolo di Santa Maria delle Grazie ed è non è affatto da scartare l'ipotesi che incontri e conosca personalmente Lorenzo Lotto, che in questi anni risiedeva a Bergamo. La caratteristica di Holbein, che, ripeto, dopo questo inizio di carriera piuttosto eclettico, si segnalerà progressivamente come un eccellente ritrattista e la seconda parte della sua carriera sarà esclusivamente dedicata al ritratto, Holbein è prima di tutto un fantastico disegnatore. I ritratti dipinti sono sempre preceduti da ritratti colti dal vivo a disegno, cioè Holbein disegnava dal vero i suoi personaggi e poi con calma trasferiva il disegno sulla tavola. Per fortuna possediamo un numero corposo, significativo, dei disegni di Holbein che lasciano senza fiato per la precisione, per la incisività e anche per la finezza di interpretazione fisiognomica e psicologica. Adesso, giusto per introdurvi un po' a questo artista, comincio a farvi vedere una serie di sue opere giovanili, dipinte da Holbein intorno ai suoi vent'anni e questi sono due ritratti, uno di Lorenzo Lotto e l'altro di un pittore leonardesco, recentemente l'attribuzione è stata spostata da quella tradizionale ai De Predis a Giovanni Antonio Boltraffio e questi sono esempi di ritratti italiani, anzi, diciamo, afferenti alla Lombardia dell'epoca di Holbein che offrono dei buoni punti di paragone. Holbein diventa molto famoso quando dipinge questo quadro spaventoso, uno dei quadri più impressionanti, più drammatici dell'intera storia del Rinascimento europeo. Rappresenta Cristo morto, dite, mantegna, no, il Cristo morto, ma il titolo Cristo morto non è così efficace, sarebbe più esatto definirlo Cristo nel sepolcro. Questo è Cristo ormai inumato e collocato nel sepolcro, un quadro davvero agghiacciante perché soprattutto intorno alle ferite delle mani e dei piedi con una raggelante precisione Holbein ci mostra la carne che sta iniziando un processo di decomposizione. È un quadro veramente molto impressionante e che spesso viene riprodotto e illustrato per segnalare che siamo proprio negli anni della lacerazione religiosa prodotta dalla riforma di Lutero. Molto brevemente devo ricordarvi che Martin Lutero, monaco agostiniano, formatosi all'Università di Erfurt nella Sassonia, nella Germania settentrionale nel 1517 esce allo scoperto affiggendo sulla porta della cattedrale di Wittenberg un lungo documento diviso in 95 cosiddette tesi, cioè sono dei pronunciamenti e di queste 95 tesi 43 vengono ritenute eretiche da parte delle gerarchie cattoliche. Tra il 17 e il 21 ci sono numerosi tentativi di ricomposizione tra gli altri prelati cattolici della Germania, in particolare il primate di Germania il cardinale Alberto di Brandeburgo e Martin Lutero e i suoi primi seguaci, in particolare l'ideologo della riforma Filippo Melantone. ma alla fine questi ripetuti tentativi uno dei quali si svolge proprio ad Augusta nel 1518 falliscono e nel 1521 anno di questo dipinto il Papa Leone X de' Medici figlio di Lorenzo il Magnifico a malincuore scomunica Martin Lutero e a questo punto lo scisma diventa ufficiale ed insanabile. Holbein è in modo del tutto caratteristico uno dei grandi pittori del Rinascimento tedesco che vengono coinvolti nel dibattito religioso che diventa anche dibattito politico e questione militare che infiamma e insanguina la Germania nel corso degli anni 20 del Cinquecento. E' molto interessante il fatto che Holbein sia in contatto con la più nobile figura che si erge su tutto questo magmatico momento e cioè il grande umanista Erasmo da Rotterdam. Erasmo da Rotterdam rimane cattolico ma continua a dire io rimango cattolico però attenzione che Lutero in tante cose ha ragione per esempio ha perfettamente ragione quando dice che il Vangelo e la Bibbia devono essere tradotti nelle lingue delle diverse nazioni è inutile continuare a utilizzare solo il latino e il ritratto di Erasmo da Rotterdam tra l'altro nello stesso periodo anche Albrecht Dürer esegue dei ritratti in disegno e in incisione di Holbein ci mostra come Holbein fosse proprio in contatto con alcuni dei protagonisti culturali e religiosi della sua epoca questo è un particolare di un altare con molte scene con un notturno che spesso è stato accostato a a Gaudenzio Ferrari insomma la pittura anche devozionale della della Lombardia chiamiamola così in senso storico dell'inizio del Cinquecento e questo è un esempio dei pochi ma anche graziosi quadri chiamiamoli mitologici questo è Venere Amore di Holbein quasi tutte queste opere sono conservate nel Kunstmuseum di Basilea e qui credo che sia facile per tutti voi riconoscere un influsso leonardesco il volto di questa Venere ha proprio la faces tipica caratteristica delle donne leonardesche però a metà degli anni venti del Cinquecento di fronte al ribollire delle passioni 1525 è l'anno della strage terribile della guerra dei contadini in Germania forse noi conosciamo solo parzialmente quanto il Cinquecento che noi magari idealizziamo un po' come secolo di capolavori di grandi artisti di grande bellezza sia stato invece un secolo terrificante per quello che riguarda le guerre le contese le guerre civili le stragi le malattie la fame le pestilenze l'iconoclastia l'iconoclastia la brutalità è quel periodo che Francesco Guicciardini chiamava un periodo di orrende guerre mentre noi lo ricordiamo come il secolo appunto in cui arriva a maturazione il rinascimento di Leonardo di Raffaello di Michelangelo di Tiziano ma anche di Dürer e di Holbein dei grandi maestri tedeschi fatto sta che Holbein nel 1526 per la prima volta si imbarca e va in Inghilterra in Inghilterra sta stagliandosi la sagoma inconfondibile del re Enrico VIII un re molto ambizioso dovete immaginare però che per il momento Enrico VIII non era ancora quel colosso che siamo abituati a vedere nei ritratti successivi era un giovane monarca molto atletico un campione di salto con l'asta pensate un po' nessuno potrebbe pensarlo vedendo la mole pachidermica che svilupperà negli anni successivi e come arriva in Inghilterra ecco che noi vediamo Holbein incontrare e ritrarre i grandi protagonisti della cultura e del dibattito politico e religioso dell'epoca l'umanista Tommaso Moro che verrà qualche anno dopo fatto giustiziare gli verrà fatto decapitare niente meno che da Enrico VIII e l'arcivescovo Wolsey arcivescovo di Canterbury arcivescovo che verrà deposto da Enrico VIII quando Enrico VIII guiderà lo scisma anglicano quindi ancora una volta devo dire il nostro amico Hans Holbein è un meraviglioso ritrattista ma forse individua sempre il lato sbagliato diciamo così della politica anche nel caso del ritratto di Tommaso Moro che è un ritratto bellissimo non si smetterebbe mai di guardarli questi ritratti di Holbein hanno una lucidità una penetrazione una forza un'energia una vitalità una presenza fisica veramente straordinaria e anche nel caso del cancelliere Tommaso Moro possediamo il disegno tra l'altro è un disegno con dei gessetti colorati un disegno policromo preparatorio durante questo suo primo periodo inglese Holbein smette sostanzialmente di dipingere quadri di soggetto sacro finisce questa fase giovanile questa fase eclettica della sua pittura e si concentra esclusivamente nel ritratto e i ritratti di Holbein alcuni sono anche caratterizzati da questo sfondo azzurro che è piuttosto caratteristico che Holbein utilizza ripetutamente e i ritratti di Holbein partono l'abbiamo già detto da una eccellente mano grafica disegnativa ma passano attraverso una capacità empatica di contatto diciamo interiore con i personaggi che è molto forte naturalmente Holbein è in contatto con i mercanti tedeschi o con gli intellettuali tedeschi questo Nikolaus Kratzer era un astronomo e costruttore di strumenti di precisione questo è un dipinto importante perché vedete qui Holbein oltre a raffigurare in modo potente il personaggio riempie lo spazio di oggetti che sono oggetti scientifici ci sono gnomoni sestanti compassi squadre oggetti specializzati in sostanza e il nostro sguardo è attirato non solo dal personaggio ma anche da questo universo di oggetti che lo contornano è stato spesso detto che Hans Holbein ha dipinto la natura morta prima della natura morta cioè prima che si consolidasse il genere autonomo della natura morta volevo farvi un confronto con un analogo ritrattista pittore italiano cioè parmigianino anche parmigianino è un artista inquieto anche parmigianino come Holbein avrà una vita piuttosto breve e anche parmigianino aveva il gusto di inserire nei ritratti dei suoi personaggi oggetti particolari che connotassero l'attività di queste figure ecco questo è il dettaglio del primo piano della mano di Nicolas Scratzer questo dipinto che rappresenta la moglie di Holbein e i due figli un dipinto familiare molto diverso nel tono rispetto ai ritratti ufficiali ai ritratti nobili ha un significato un po' malinconico perché è l'ultimo ritorno di Holbein sul continente europeo aveva fatto questo primo assaggio in Inghilterra tra il 1526 e il 28 e visto che allora non si parlava di Brexit dicevo qui posso andare e venire senza grandi problemi torna a Basilea per un paio d'anni ma poi e appunto in questo periodo di ritorno a Basilea si colloca questo bel ritratto di famiglia poi a partire dal 1531 torna in Inghilterra e qui si fermerà definitivamente dal 1531 fino alla morte piuttosto precoce durante una pestilenza nel 1543 curiosamente nell'atto di morte di Holbein c'è scritto morto di sudore che insomma non so bene che cosa voglia dire comunque questa è la causa della morte di Holbein è il sudore sarà così fatto sta che in Inghilterra la carriera di Holbein ha come un'accelerazione vedete per una strana situazione del destino per molti secoli l'Inghilterra ha stentato nel produrre grandi pittori autoctoni e ha dovuto continuare a importare artisti dal continente Holbein Van Dyck Rubens Sebastiano Ricci Canaletto anche cioè una serie di artisti molto importanti nel 5 nel 6 e nel 700 si sono trasferiti per periodi più o meno lunghi o addirittura in modo definitivo in Inghilterra per sopperire alla mancanza sostanziale di artisti locali solo nel corso del 700 nasce una scuola di artisti inglesi guarda caso soprattutto ritrattisti o paesaggisti e la pittura inglese si consolida come una scuola autonoma questo era un mercante tedesco che però risiedeva a Londra Georg Ghisze era anche un amico di Tommaso Moro ed è un altro bellissimo grande ritratto di Holbein guardate avvicinandoci un ritratto del 1532 vedete proprio la pignoleria l'attenzione con cui Holbein identifica ogni singolo oggetto mettendolo a fuoco con spietata precisione e gestendolo anche con l'uso delle ombre questo Sir Nicholas Carreau scudiero d'onore si chiamava maestro dei cavalli horse master horse master di Enrico VIII un altro bel ritratto in una famosa collezione principesca inglese è molto interessante perché ci stiamo avvicinando ormai siamo alle soglie del nostro capolavoro vedete che alle spalle di questo personaggio dal volto o dalla faccia anche molto inglese vedete questa faccia lunga compare un drappo di Damasco una grande tenda come una cortina con eleganti ramage e sarà questo l'espediente compositivo che Holbein utilizzerà anche nel grande capolavoro dei due ambasciatori francesi siamo proprio ormai alle soglie di quest'opera ed eccola qua questo è un dipinto che come vi dicevo è stato analizzato in tutte le sue parti ma contiene ancora qualche punto in discussione è stato eseguito in una occasione del tutto particolare durante il periodo di Pasqua dell'anno 1533 un giovane ma brillante prelato già vescovo nonostante il fatto che non fosse ancora trentenne si chiama Georges Deselves è l'uomo che vedete vestito di scuro sulla destra del dipinto va a trovare un amico questo suo amico Jean de Dinteville signore di Polissie e Balivo di Troyes era ambasciatore del Regno di Francia a Londra quindi Georges Deselves l'ecclesiastico si imbarca attraverso la manica e va a trovare il suo amico siamo nel tra marzo e aprile del 1533 per solennizzare questo incontro Jean de Dinteville si rivolge ad Holbein e gli chiede un ritratto di se stesso e del suo amico ma a figura intera quindi un'opera monumentale scusate un'opera molto impegnativa decisamente più impegnativa rispetto a tutte quelle che in campo ritrattistico aveva fatto fino allora Hans Holbein e questo dipinto era destinato a rimanere tra le proprietà nei castelli della famiglia dei Dinteville è molto probabile che i due uomini abbiano posato una volta sola per Holbein che presumibilmente avrà fatto come al solito dei disegni dei loro volti però purtroppo in questo caso i disegni non ci sono più o perlomeno non sono stati finora identificati quindi l'occasione è questa un incontro tra due giovani uomini entrambi non ancora trentenni ma entrambi già proiettati verso delle brillantissime carriere una carriera politico-diplomatica per Jean de Dinteville una carriera di alto prelato per Georges de Selve ora se noi ritorniamo per un attimo allo sfondo storico di cui stiamo parlando e cioè a questa Europa che stava cercando degli assetti molto difficili in una contesa religiosa che stava lacerando l'orbe cristiano dividendo i luterani dai papisti cioè i riformati dai cattolici ma che vedeva su punti contrapposti Francia e Spagna che si combattevano aspramente soprattutto nel territorio italiano o Franza o Spagna purché se magna si diceva vedeva la crescita di questo imperatore Carlo V che per una serie di coincidenze dinastiche si era trovato a gestire un impero gigantesco che si estendeva anche al di là dell'oceano e comprendeva le colonie americane e quindi questi due uomini questi due francesi uno politico e l'altro ecclesiastico sono due protagonisti in un momento di estrema delicatezza e si trovano proprio in quella Londra dove Enrico VIII stava a sua volta attuando un ulteriore scisma lo scisma anglicano e si stava staccando stava staccando il clero inglese dalla legame con Roma e con il Papa per creare una chiesa inglese locale e autonoma l'espressione concentrata seria impegnata di questi due giovani uomini sembra esattamente il riflesso di un'epoca e di una situazione di cui questo ritratto è uno specchio di straordinaria ricchezza e di formidabile efficacia in realtà non sono solo due giovani e brillanti e intelligenti e preparatissimi protagonisti della scena del dibattito politico e religioso sono anche due uomini di cultura l'uno e l'altro lo sappiamo dalle rispettive biografie erano degli intenditori di musica conoscevano l'uso degli strumenti scientifici erano appassionati di matematica uno dei libri che sono presenti in questo dipinto è un libro di matematica avanzata e quindi la presenza di strumenti musicali di oggetti scientifici di un mappamondo celeste e di un mappamondo terrestre e di libri di diverso genere è la dichiarazione la dimostrazione degli interessi culturali dei due personaggi questo è il committente Jean de Dinteville aveva all'epoca di questo ritratto 25 anni ma a 25 anni era già l'ambasciatore del re di Francia Francesco I presso il re d'Inghilterra Francesco I di Valois presso il re d'Inghilterra Enrico VIII Tudor Francesco I ed Enrico VIII erano stati anche rivali c'era la spina del fianco della città di Calais Calais è un porto francese sulla costa francese ma per antica tradizione era di proprietà inglese diciamo un enclave inglese nel territorio francese Enrico VIII e Francesco I alla morte dell'imperatore Massimiliano I d'Asburgo avevano per un po' sperato di diventare ciascuno dei due di diventare imperatore ma nessuno dei due ce l'aveva fatta erano stati superati da Carlo V che sotto sotto era il loro vero nemico quindi tutto sommato Enrico VIII e Francesco I che ogni tanto si guardavano in Cagnesco erano però tutti e due accomunati dal fatto di avere come rivale il potentissimo Carlo V è possibile ma non è certo che Holbein abbia eseguito un altro ritratto di Jean de Dinteville questo dipinto conservato nella Gemelle des Galeries di Berlino che è chiamato abitualmente Gentiluomo con un liuto viene da alcuni studiosi ma non da tutti ritenuto un altro ritratto dello stesso Jean de Dinteville che qui in modo più semplice meno vedete sontuoso meno sfarzoso osservate che qui è vestito quasi come un re ha un abito foderato di pelliccia e tiene in mano uno spadino che sembra quasi uno scettro sembra quasi uno scettro regale e qui invece è raffigurato con abiti più semplici ma con la sua grande passione cioè il liuto liuto che come vedete compare nello scaffale inferiore del mobile al centro di questo dipinto questo è Georges de Selve io credo che questi particolari spero che li vediate abbastanza bene anche se penso per ragioni di ripresa ma ci sono delle luci veramente abbaglianti su questo su questo tavolo e spero che non si riflettano nello schermo spero e suppongo che vediate bene queste diapositive questi ritratti sono impressionanti cioè veramente c'è una vitalità una presenza straordinaria e questo è il lo scaffale superiore del mobile su cui vedete dei quadranti solari un astrolabio un globo celeste e degli strumenti di misurazione del corso delle stelle e del cielo i due giovani gentiluomini appoggiano con non curanza un braccio su questo bellissimo tappeto anatolico di cui Holbein riesce a darci quasi tattilmente la trama vedete sembra proprio di poter contare i punti di questo di questo tappeto e questo tappeto è un tappeto turco con un tipo di disegno che viene chiamato alla Holbein proprio perché con una certa frequenza compaiono questi tappeti nei dipinti di Holbein mi ero dimenticato di dire una cosa il pavimento il pavimento viene di solito ritenuto vedete questo pavimento quasi in stile cosmatesco con un mosaico di frammenti di schegge di marmo il pavimento viene a volte identificato con il pavimento dell'abbazia di Westminster a Londra e questo serve per segnalare il fatto che quest'opera è stata dipinta a Londra e che ricorda un incontro avvenuto appunto a Londra questo è il dettaglio del bellissimo globo celeste con le costellazioni e questo è il libro che si trova sotto il braccio di Georges de Selve con la scritta Etatis sue 25 a 25 anni questo invece è lo spadino il gioiello di Jean de Dinteville e si legge sullo spadino spero qui riusciate a vederlo ecco adesso uso il cursore Etatis sue 29 quindi dei due personaggi ci viene anche specificata l'età Georges de Selve aveva 25 anni Jean de Dinteville 29 allora si faceva carriera piuttosto presto insomma diciamo anche così ecco ancora gli strumenti che vi avevo mostrato prima e ancora avvicinandosi la precisione proprio la meticolosità la freddezza vorrei dire con cui Holbein rappresenta questi oggetti e a me piace moltissimo Holbein come ritrattista perché riesce ad essere nello stesso tempo infallibile implacabile nitido nordico proprio quasi con questa luce fredda che mette a fuoco in modo preciso gli oggetti e ci permette tra l'altro una sorprendente lettura di questi suoi dipinti ma nello stesso tempo appassionato e forte nella rappresentazione dei sentimenti e dei moti dell'anima il liuto diciamo è il protagonista dello scaffale inferiore del mobile insieme a due libri un libro di matematica e un libro di musica poi c'è un mazzo un fascio di flauti sulla destra e un compasso e poi c'è un mappamondo veramente molto interessante perché noi possiamo leggere anche le indicazioni cioè l'Europa l'Africa sono individuate con una certa precisione anche le isole maggiori la Sardegna la Sicilia la Corsica e naturalmente l'Inghilterra e l'Olanda e guardando ancora più da vicino ci accorgiamo che tra le città segnate intanto c'è Genova Genua eccola qua è una delle poche città citate c'è Roma Venezia e Genova le uniche tre città italiane citate c'è Norimberga e poi concediamo qualcosa al committente c'è Polissi Polissi è una minuscola cittadina del sud della Francia ma era il feudo di Jean de Dinteville quindi non c'è Parigi ma c'è Polissi proprio come concessione al signore di questo feudo il Liuto ha una particolarità spero riusciate a vederla adesso la sto seguendo con il cursore qua lo vedete qui una delle corde del Liuto è rotta si è staccata a parte il virtuosismo eccoci qua estremo di riuscire addirittura a farci osservare la corda rotta del Liuto ci sarà un altro pittore che riuscirà a farci vedere una corda di un violino ed è Caravaggio nel riposo durante la fuga in Egitto della Galleria Doria Panfili ma a parte il virtuosismo della rappresentazione io credo che qui ci sia un fortissimo valore simbolico una corda rotta è una armonia che si è spezzata l'armonia dell'Europa con la riforma luterana con la scoperta dell'America con le guerre con le contese tra spagnoli e francesi con il sacco di Roma del 1527 l'armonia dell'Europa si era spezzata e questa corda rotta è proprio un simbolo di una musica diciamo di un accordo che non è completo un accordo che si è interrotto che si è appunto spezzato ci sono poi delle interpretazioni fortemente politiche di questo dipinto ma io ho paura di annoiarvi e cerco di andare al sodo il libro di musica si legge perfettamente c'è un'indicazione di 59 è un inno luterano com heiliger geist è in tedesco è scritto in tedesco è un corale lo ripeto in tedesco ed è la traduzione di Lutero di veni creator spiritus com heiliger geist allora da un lato va bene Holbein forse si è concesso così come aveva messo il nome di policy nella mappa dell'Europa qui si concede la sua memoria di tedesco ma dall'altra parte può essere interessante trovare un corale luterano nel contesto del ritratto di due gentiluomini francesi di cui uno dei due è un vescovo cattolico cosa succede che Francesco I di Francia che stava vedendo frustrate le sue velleità di conquiste territoriali stava cercando di conquistarsi uno spazio di mediazione tra i cattolici e i luterani che combattevano fra di loro Carlo V combatteva delle guerre contro i principi tedeschi della guerra della Lega di smalcalda quindi per cercare uno spazio di anatomia di autonomia e di diciamo di rispetto Francesco I di Francia stava cercando di proporsi come lago della bilancia il punto di incontro e di riarmonizzazione tra cattolici e luterani e la presenza di corale luterano squadernato aperto ben leggibile facilmente leggibile ecco poi io invidio molto e mi dispiace tanto di non saper leggere la musica perché quando io vedo dei quadri dove ci sono dei pentagrammi dove ci sono delle notazioni musicali degli spartiti io invidio le persone che leggono a prima vista la musica perché sentono la musica del quadro sentono il suono del quadro io provo sempre di più il desiderio di fare uscire i quadri dalla monosensorialità della vista noi guardiamo dei quadri ma il senso della vista spesso ci è insufficiente ormai tutto ciò che noi facciamo pensate a quanti sensi utilizziamo per fare una telefonata tocchiamo usiamo proprio la funzione touch si chiama proprio touch dobbiamo toccare guardare ascoltare tre sensi attivati per fare una telefonata e quando vediamo un museo o una mostra rimaniamo sempre un pelino come dire limitati nel fatto di poter usare solo la vista dai ditemi la verità quanti di voi davanti a delle sculture resistono alla tentazione di dare una carezza a qualche coscia a qualche polpaccio non si fa non bisogna farlo però è irresistibile la tentazione allora quando io vedo degli spartiti dentro nei quadri dico ma pensa che bello che qualcuno sta sentendo come vede quest'opera come vede questo spartito lo sente penso ancora una volta ai quadri di Caravaggio dove gli spartiti sono perfettamente leggibili ed eseguibili e che bello anche vedere e sentire già la musica di queste opere il liuto lo vedete qui in prospettiva e come voi sapete gli strumenti musicali sono spesso presenti negli esercizi di prospettiva ad esempio nelle tarsie linee spesso ci sono proprio degli strumenti musicali e guardate un po' nel trattato di prospettiva scritto e illustrato da Albrecht Dürer Dürer utilizza proprio un liuto per far vedere come si fa a realizzare in prospettiva degli oggetti tanto il liuto disegnato su quel foglio tenuto in mano dal pittore ha proprio una posizione analoga a quella del liuto di Holbein poi c'è questa strana macchia in basso al centro del dipinto molti di voi sanno già di che cosa si tratta però state zitti non suggerite i vostri vicini perché c'è questa in un dipinto così nitido così chiaro così esplicito in cui ogni oggetto è ben stagliato staccato e definito rispetto a tutti gli altri stona un po' questo strano e indefinito oggetto grigiastro che si trova in basso al centro della composizione la presenza di questo oggetto è proprio la ragione per cui io mi sono sdraiato sul pavimento della National Gallery di Londra perché questo oggetto è riconoscibile ed è visibile nella sua essenza ben chiara solo se lo si guarda da un punto di vista particolare dal basso verso l'alto e spostandosi verso la destra del dipinto dovrei avere ecco vedete se noi proviamo guardate questa mi piace questa immagine vedete a ruotare il dipinto vedete quella macchia in basso che a poco a poco comincia a diventare riconoscibile vedete che il dipinto è sempre lo stesso ma cambia il punto di vista di angolatura e la deformazione prospettica ecco il virtuosismo della anamorfosi si chiama così il trucco visivo utilizzato da Holbein questo è fotografato dal basso verso l'alto e dall'angolo di sinistra di destra quella macchia scura è un teschio una presenza macabra ma che non è vedete questo è il quadro visto di fronte ma osservandolo da un punto di vista angolato ecco che la prospettiva ci permette questa non è deformata è una vera fotografia naturale ma presa mettendosi in basso a destra e guardando di taglio il dipinto ecco che ci accorgiamo che riconosciamo bene che cos'è quello strano oggetto fra l'altro anche fuori scala troppo grande in primo piano è un riferimento molto macabro alla transitorietà al passare del tempo i due uomini sono molto giovani sono in piena forma sono in carriera sono colti raffinati si trovano all'estero per missioni diplomatiche e religiose ma non possono e non devono dimenticare che il successo la bellezza l'energia sono destinati ad avere una fine e tra l'altro il fratello di Hans Holbein Ambrosius Holbein è probabilmente l'autore di questo dipinto conservato a Basilea che rappresenta per l'appunto dei teschi è un po' quel tema classico è un po' macabro del memento Mori ma d'altra parte se noi pensiamo a questi primi decenni del Cinquecento qualunque artista europeo dotato di un minimo di sensibilità non poteva che pensare a queste situazioni tra l'altro l'anno 1533 che è l'anno in cui Holbein dipinge i cosiddetti ambasciatori francesi attenzione in realtà dei due personaggi uno è un ambasciatore cioè Jean de Dinteville l'altro non è propriamente un ambasciatore però il titolo ormai tradizionale è questo lo stesso anno 1533 è l'anno in cui Michelangelo Buonarroti a Roma riceve l'incarico di cominciare a pensare a decorare la parete di fondo della cappella Sistina con un giudizio universale quindi questo tema della fine dei tempi della fine del mondo era un tema che attraversava tutta l'Europa ho ancora qualche minuto pochi ma voglio dirvi che cosa ha fatto Holbein dopo questo capolavoro ha continuato ad abitare a risiedere a Londra ha ricevuto l'incarico di pittore ufficiale del re Enrico VIII e i suoi committenti sono saliti di grado sono saliti di tono sono un po' tutti i personaggi che ruotavano intorno alla corte inglese questo è Robert Chizeman appassionato di falconeria vedete con il suo falcone questo invece è ancora un mercante tedesco Derrick Born dipinto conservato nelle collezioni regali inglesi a Windsor e questo è Charles de Solier un altro francese presente a Londra ma la cosa interessante è che questo dipinto venne acquistato dal re di Sassonia Federico Augusto il Forte a metà del Settecento e il re di Sassonia infatti conservato a Dresda riteneva che fosse un'opera di Leonardo da Vinci e che rappresentasse l'ultimo duca sforza Francesco II interessante anche questo fatto che Olbein potesse essere confuso niente meno che con Leonardo questo Simon George di Cornwall di Cornovaglia in un ritratto di forma ovale mentre tiene in mano un garofano rosso sembra veramente una immagine caratteristica dell'Inghilterra del Rinascimento siamo in epoca Tudor siamo all'epoca di Enrico VIII ma sembra veramente un personaggio shakespeariano quasi elisabettiano e poi questa è la deliziosa Cristina di Danimarca Cristina di Danimarca figlia del re di Danimarca per breve tempo sposa e rapidamente diventata vedova proprio di Francesco II sforza infatti era chiamata la duchessa di Milano vedete che è vestita di nero perché era appunto vedova ma aveva solo 18 anni ed era già vedova ed era diciamo così una possibile moglie per Enrico VIII Enrico VIII spedisce Holbein a Copenhagen gli fa fare il ritratto di questa possibile sposa Holbein ritorna a Londra dipinge questo ritratto Enrico VIII ci pensa un po' su poi dice ma no lasciamo perdere credo che sia andata abbastanza bene a Cristina di Danimarca visto il ritmo con cui Enrico VIII macinava le sue mogli era nota Cristina di Danimarca per le sue bellissime mani e si diceva le mani del colore delle rose ed ecco appunto che Holbein si sofferma proprio sulle mani della giovane principessa ed eccolo qua Enrico VIII diciamo vistoso grandioso spettacolare con questo stupendo abito nunziale indossato nel 1539 per le terze o quarte nozze adesso ho anche perso il conto è uno dei numerosi ritratti ufficiali che Holbein ha eseguito per il sovrano inglese e forse quello più caratteristico sembra quasi che Enrico VIII non riesca nemmeno a stare dentro nel dipinto sembra che si stia espandendo gonfiandosi ed è un ritratto devo dire anche questo formidabile indimenticabile vedete questo sfondo azzurrino che Holbein usa frequentemente e lo usa anche per l'appuntito il sottile ritratto di Jane Seymour è forte questa coppia perché vedete lui enorme che elefantesco che si dilata e lei che si sembra quasi prosciugarsi a cono con questa strana acconciatura bellissimo qui è l'effetto della rete d'oro delle maniche questo dipinto è conservato al Kunsthistorisches Museum di Vienna questo era il duca di Norfolk uno dei più grandi personaggi della corte inglese anche questo nelle collezioni reali di Windsor e questa è Anna di Cleve la quarta moglie di Enrico VIII negli abiti nonziali nel dipinto dell'Ubre Anna di Cleve è forse la più sventurata di tutte perché finalmente al quarto tentativo alla quarta moglie Enrico VIII riesce ad avere da lei il tanto sospirato erede maschio aveva fatto fuori Caterina d'Aragona Anna Bolena Jane Seymour le tre moglie precedenti perché nessuna delle tre era riuscita a dargli un figlio maschio Anna di Cleve ce la fa ma deve essere stato uno sforzo talmente drammatico che poverina Anna di Cleve muore poche settimane dopo aver dato alla luce appunto il bambino che tra poco vedremo e questa è un ritratto di una signora probabilmente della famiglia Cromwell ma che si riteneva fosse il ritratto di Catherine Howard la quinta e penultima moglie ce ne sarà ancora un'altra Catherine Parr di Enrico VIII siamo già intorno al 1540 siamo verso la fine della vita e della produzione dell'attività della carriera di Hans Holbein che si conclude sostanzialmente con un delicatissimo bambino con il principe di Galles appunto il figlio di Anna di Cleve Edoardo il futuro re Edoardo VI conservato nella National Gallery di Washington vestito come si conviene come proprio un principino inglese un royal baby ma con in mano e questo è un tocco delizioso un sonaglino un giochino proprio da bambini è una delle ultime opere di Holbein appunto pittore di corte di Enrico VIII ed è un'opera che si colloca verso un'ulteriore svolta che avverrà Edoardo VI avrà una vita breve e saranno la sua sorella Elisabetta I e la sua cugina Maria Stuarda a contendersi il trono di Inghilterra ma questa è tutta un'altra storia e chissà magari la racconteremo l'anno prossimo grazie davvero a tutti voi e buon proseguimento per gli appuntamenti di questo ciclo